Torna a far parlare di sé la zona del Parco Fluviale di Chietiscalo. Parco Fluviale soltanto di nome perché di fatto quest'area è diventata una discarica a cielo aperto, anzi più discariche perché sono diversi i punti nei quali i cittadini privi totalmente di senso civico hanno gettato di tutto. Alle mie spalle, come mostrano le immagini girate da Luca Corneli, c'è un congelatore, ci sono bottiglie in vetro, in plastica, ci sono oggetti di ogni tipo, dai cartoni alle buste in plastica ad oggetti in alluminio e molto altro. Quest'area, come vi dicevo, doveva diventare un Parco Fluviale, ma se il cartello che si trova a poche decine di metri dal centro commerciale Megalò indica che qui c'è un Parco Fluviale dove scorre il fiume Aterno, il fiume Pescara, poi negli anni questo progetto è naufragato poiché è un'area a rischio esondazione, pertanto anche se sistemata nel miglior modo possibile, quando poi ci sono le esondazioni del fiume quindi l'acqua andrebbe a distruggere tutto ciò che è stato creato. Ma certo, adesso rimuovere tutti questi rifiuti rappresenta un costo per l'intera collettività e quindi un appello a tutti coloro che ci stanno seguendo. L'ambiente che ci circonda è nostro perché qui noi viviamo e cosa vogliamo lasciare ai figli, alle future generazioni? Questo? Mezzo a tanto degrado però c'è anche una nota positiva. Questo signore che preferisce non rilasciare interviste ma so che è di Chieti, originario di Avezzano, da tanti anni vive nel capoluogo teatino e viene proprio qui a contemplare la natura e a suonare le ciaramelle. Come vedete c'è anche chi la natura la rispetta e omaggia con la musica. Grazie a tutti.